A Procita per la prima volta c'è stato l'incontro dell'Associazione dei Comuni Isole Minori. È stata decisa una cosa importante, l'istituzione di una scuola di alta formazione per il risparmio energetico e per le fonti di energia alternativa. Sì, Procita è stata per la prima volta teatro di un incontro a tutti i sindaci delle isole minori che fanno parte dell'ANCIM e che in collaborazione con l'Enea, che è l'ente pubblico che è deputato alle politiche di energia ed ambiente per lanciare questa esperienza di scuola di alta formazione che si terrà a Procita nel complesso di Terra Murata aperta a tutti i sindaci, nonché gli amministratori, che potranno seguire nel scenario di Terra Murata seminari, incontri, convegni e occasioni formative in materia di energie rinnovabili, in materia di innovazione, in materia di ambiente ed ecologia. Le energie rinnovabili per le isole minori sono una fonte importante? Allora, le isole minori e tra queste Procita hanno nell'ambiente, quindi nella flora e nella fauna, un elemento caratterizzante, diciamo che è un elemento identitario di Procita, la sua natura, la sua bellezza, il suo mare, la sua architettura e quindi non possiamo non assumerci la responsabilità di preservare, tutelare questo patrimonio immenso. Per cui l'energia rinnovabile, le politiche che portano ad un risparmio, ad un uso consapevole e razionale delle risorse sono politiche necessarie, essenziali e rappresentano tra l'altro il futuro non soltanto delle isole minori ma un po' di tutta la nostra penisola, per cui è necessario investire e con questa scuola, con questa alta formazione che l'Enea e l'Anci hanno lanciato ieri a Procita è proprio questo l'obiettivo, fornire gli strumenti per programmare, per progettare e quindi per investire in maniera consapevole su questo settore.